Canale 8 Ciao mister, si parla sempre tantissimo delle motivazioni ma non si può cercare un'altra strada per poi non ogni volta dire sono mancate le motivazioni secondo me la strada visto il tuo gioco può essere quella dell'inalzare il tasso tecnico con maggiore qualità da dietro a centro campo anche davanti dove Napoli ha fatto benissimo però ha sbagliato anche tantissimi gol alzando il tasso tecnico sul mercato si può poi cancellare questo problema che ci siamo tutti un po' costruiti della mancanza di motivazione che qualcuno ti ha debitato come vero grande difetto del Napoli e ti chiedo se un acquisto non è già stato fatto da questo punto di vista ed è Zuniga Io credo che ho spiegato più o meno il mio italiano non era perfetto quando parlava del carattere, della motivazione questo non si compra nel supermercato non nel mercato, nel supermercato e sono d'accordo 100% perché una squadra che gioca bene come abbiamo giocato noi tante partite se invece sbagliare il gol che abbiamo sbagliato l'altro giorno facciamo gol non parliamo di motivazione parliamo di qualità o episodio o lo che vogliamo dire ma la squadra può crescere a livello caratteriale se abbiamo più qualità e se il gioco è ancora un po' meglio e sappiamo cosa dobbiamo fare ogni partita contro una difesa da 5, da 4 o da 3 la questione è capire il gioco e avere la qualità sufficiente dopo l'atteggiamento per vincere le partite e l'atteggiamento non è un problema non sarà un problema con una rossa più competitiva perché se uno non fa il suo lavoro arriva un altro che lo può fare e questa è una motivazione 100% per ogni calciatore abbiamo perso qualche giocatore con infortuni di lungo termine quest'anno e Zuniga è stato uno di questi che proviamo a vedere se si può aiutare ancora a dare una mano alla squadra in queste partite che mancano e sicuro che sarà un rinforzo per il prossimo anno Corriere dello Sport Rafa scusami se faccio una domanda a Carogna ma non si può far finta di niente dopo le parole di Moratti e di Materazzi se li incroci, allunghi la mano per salutarli aspetti che lo facciano loro o cambi strada? Io sono così concentrato nella partita che normalmente non vedo nessuno vado diritto all'esplogliatoio e dopo in campo Che tipo di vendetta tra virgolette senti di dover consumare? Nessuna un'altra volta devo ripetere perché io non ho nessun problema con l'Inter è una società a livello internazionale la più forte del mondo il rapporto con la gente che lavoravo là quasi tutti era molto buono con i giocatori era molto buono quasi tutti e con i tifosi era buono non ho nessun problema io vado là per fare il mio lavoro al 100% voglio vincere perché sono allenatore del Napoli sicuro che loro faranno lo stesso provano a vincere la sua partita e basta dopo guardo avanti pianeta Napoli mister buongiorno buongiorno volevo spezzare un attimino una lancia a favore di Lorenzo Insigne che è vero che da attaccante magari poteva fare qualche gol in più però ci sono dei dati statistici indicativi è l'attaccante che ha recuperato più palloni in difesa 159 e soprattutto in 34 gare per ben 49 49 volte ha messo l'attaccante davanti al portiere ecco volevo sapere di questi due aspetti quale attaccante diciamo abile nella fase di non possesso e anche come uomo assist quale di queste due qualità apprezza di più anche in funzione del prossimo anno magari noi che giochiamo con esterni che sono offensivi loro devono attaccare devono attaccare bene questo l'ha fatto Dries Mertens questo l'ha fatto Callejón e questo l'ha fatto Lorenzo Lorenzo la differenza tra Lorenzo Callejón e Dries è la età lui è un giocatore giovane che ancora deve continuare a crescere a lavorare e imparare un ruolo diverso ma ho sentito che dicevano qualcuno no perché lui lavora nella fase difensiva e non è brillante nella fase offensiva questo mi sembra una scusa credo che lui è un buon giocatore ho parlato con lui lui sta lavorando tantissimo e questo mi piace molto ma sta lavorando anche tantissimo durante l'allenamento e dopo l'allenamento per queste piccole cose che ancora puoi fare meglio questa è la mentalità che io cerco in un giocatore lui lo sta facendo è molto lui è molto contento perché vede che cresce io sono molto contento perché vedo che ancora ha queste margini di crescita ampio non è un giocatore che non può correre perché lui ha la resistenza ha la velocità ha la qualità ha la capacità di fare gol è sicuro che farà di più non è un esterno in una linea 5 che deve fare tutta la fascia è un attaccante che gioca nella fascia e che può giocare un lato un altro lato dietro la punta la sua crescita è continuare a lavorare come lo sta facendo che ha tutta la mia fiducia Napoli Press sono qua due rapidissime considerazioni proprio la prima quasi tutti gli allenatori che sono impegnati nelle semifinali di Champions in questa settimana hanno fatto riferimento alla fortuna in Italia la chiamiamo in un altro modo con la C ti chiedo se in questo campionato sei in debito in credito con la fortuna se magari avresti meritato qualcosina in più in termini di fortuna e poi per chiudere ieri sera si sono aggravate le condizioni Tito Villanova volevo sapere un attimo il tuo pensiero sì la fortuna si parla tanto della motivazione come abbiamo detto della cattiveria sempre tutti abbiamo una parola che durante un anno si deve si deve usare per spiegare qualcosa io credo che noi lo che dobbiamo fare continuare a lavorare così farlo meglio se possiamo farlo meglio lavorare di più non è facile perché lavoriamo tanto ma farlo meglio se possiamo farlo meglio di inizio Riccardo e io parlando del mercato con la società e dopo noi lavorando ogni allenamento per migliorare queste cose come lo che abbiamo parlato di Lorenzo non è una questione di fortuna solo è una questione di lavoro e di lavoro ben fatto e Tito sappiamo che è una situazione difficile ma io non volevo fare niente o dire niente perché credo che dobbiamo aspettare a vedere che cosa succede teleclub Italia salve mister volevo chiederle di maggio come sta il giocatore potrà dare il suo contributo in Coppa e nelle altre partite che rimangono anche perché deve conquistare un mondiale lui sta meglio sta facendo un po' di corsa ma ancora dobbiamo aspettare un po' non so se arriverà alla finale di Coppa con la possibilità di dare una mano sicuro che se non può farla in campo sarà darà una mano a livello morale dei compagni ma oggi ancora sta facendo un po' di corsa grazie a tutti grazie ciao